che cosa? ma dove stai andando? ah lo cazzo! dove stai andando? dove stai andando? dove stai andando? dove stai andando? e gli ammaiati insomma e gli ammaiati insomma e gli ammaiati insomma la gip si è corrotta ma la bomba da lo cazzo puoi fare fulato la ragazza? puoi fare fulato dal bombardato questo è lo cazzo che è arrivato l'occo vedi! abilità abilità che non spagniamo non cominci a dirlo tu e che cazzo da fuori che è? io ti diamo una mano al zumpo al tabilità no? e magari buttare un nome dove vai e gli ammaiati insomma ma cosa stai andando? no! il pannello è normale ecco qui siamo con metallisti che c'è l'italia e ma dove stai andando? perchè? è un tattarugo ninja sì un tattarugo ninja non ninja un tattarugo ninja a bitto a bitto a bitto vabbè che parta e la madonna di santa barbara mi ha prescippato ma lei la madonna di la clecca ma lei non mi ha occupato il rischio ma dove vai il rischio tutto buono ciao!